Gentili telespettatori, buona giornata. Scontro sulla giustizia. Grillo incoraggia Di Maio e Conte se la prende con Draghi. E beh, Conte vorrebbe dare il ben servito a Draghi, visto che Draghi ha preso il suo posto, Draghi ha mandato via le persone che aveva assunto lui, Draghi, Vecchione eccetera eccetera. Oggi ci sarà l'assemblea degli eletti del Movimento 5 Stelle sia di Senato che di Camera. Intanto ieri sera arriva un post di Beppe Grillo in difesa del ministro degli esteri che dice ma non ti preoccupare e lo ha abbracciato a distanza il fondatore. E visto il clima sulla giustizia i contiani hanno temuto un altro, un avvertimento a Giuseppe Conte. Ma dall'entourage di Beppe Grillo dicono ma no attenzione quella era solo una battuta nello stile di Grillo. Ma proprio anche le semplici battute fanno salire la tensione perché nel Movimento 5 Stelle sono tutti contro tutti. Ministri da una parte, Conte dall'altra, poi la telefonata di tra Drago e Grillo, cioè Draghi telefona a Grillo, ha complicato il lavoro di quelli che vengono chiamati i sette saggi che da giorni si confrontano in videoconferenza per cercare di stabilire quelli che sono stati trovati come punti fermi. In realtà punti fermi non ce ne sono perché sullo statuto stanno decidendo gli avvocati di una parte e gli avvocati dall'altra. Pertanto questi sette saggi sono lì in mezzo ma sono lì più come presenza che come realmente un organo che dovrebbe trovare una soluzione. La scissione sembrava un passo finché ieri sera dal tavolo dei mediatori arriva uno strano ottimismo. Dice l'accordo è vicino perché c'è stata un'accelerazione. Beh il caos si è scatenato intorno alla riforma cartabia però attenzione in realtà non è che si scatena un caos intorno alla riforma della giustizia. È il pretesto perché i grillini non sanno più da che parte girarsi per cercare di salvaguardare il loro stipendio che continua ad arrivare dopo la fine di questo governo perché in qualche modo prima o poi finirà. Quindi la riforma della giustizia è solo la scusa per poter esprimere tutto il loro disappunto su quei famosi 13.000 euro al mese che vanno verso la fine. Beh intanto si dice dicono ma non si può andare avanti senza un capo politico. Sono sbandati i gruppi parlamentari, ci sono tentazioni di uscire dalla maggioranza e l'incontro tra i notai delle due parti. Addirittura dagli avvocati passiamo ai notai. Ma questo incontro dice ha avuto comunque un esito positivo. Grillo sarebbe pronto a dare il via libera a Conte come capo politico vero e forte purché Giuseppi accetti di essere affiancato da una segreteria di peso. Una segreteria di peso che ci metterebbe Grillo ma Conte non vuole che nessuno gli imponga una segreteria di peso, un vice, un entourage. Beh intanto questo bailane sulla giustizia ha creato molti sospetti. Scontentato la base, ammesso che esista ancora una base perché il 90% dei votanti 5 stelle sono persone che ricevono il reddito di cittadinanza, i loro affini, congiunti. Il calcolo l'abbiamo fatto diverse volte. Quindi quando sento parlare che scontenta la base dico ma in realtà di che stanno parlando? Ma quale base? Oggi ci sarà, come vi dicevo, l'assemblea straordinaria chiesta dai fans di Conte e convocata da Crippo e Licchieri che sono i capi gruppo a Camera e Senato con il benestare di Rocco Crimi o meglio, se detto vito da alcuni amici. L'idea di riunione su Zoom, deputati e senatori, ha fatto saltare i nervi a tanti. Intanto è a poche ore dalla finalissima degli Europei di calcio, quindi i grillini si vogliono concentrare sulla finale di calcio. Beh, Di Maio, Patuanelli, Dinkà, ministri faticheranno a placare tutto quello che succede all'interno del movimento. La ministra Dadone ha scritto su Facebook un post sul reddito di cittadinanza e gli hanno risposto ma uscite dal governo. Quale reddito di cittadinanza? Gli hanno scritto vergognateli, siete incoerenti e senza dignità umana. E poi arriva la deputata Giulia Sarti che è netta e dice io non voterò mai la schifezza incostituzionale sulla prescrizione. Non saprei dirvi realmente quale sarebbe la schifezza incostituzionale, cioè ripristinare la prescrizione e incostituzionale? Ma forse era al contrario. Sai però i grillini a volte si confondono. Beh, Draghi, Di Maio, l'enigma dei Cinque Stelle, ci sarà un partito di Conte e non ci sarà. Conte che parla di anomalia italiana per la prescrizione che vuole essere ripristinata come giusto che sia fino a quando non trovano il modo di velocizzare i processi. Fate i processi veloci, vi renderete conto che la prescrizione neanche serve se ci sono i processi veloci, perché non andranno mai in prescrizione. Pertanto capite che il problema è da prendere la radice, non da potare l'albero. Così quanto trapela che vogliono tornare al modello buona fede, no? Un po' come Benigni diceva modello numero 5, Giuditta. Ecco, vorrebbero tornare al modello buona fede. Beh, così, il giurista pugliese, cioè Giuseppe Conte, è ancora irato, lui era irato, perché il capo del governo ha telefonato a Grillo. Dice una scorrettezza in un momento così delicato. Lamentano i fedelissimi dell'avvocato, che spiegano così il via libera dei ministri 5 stelle al ritorno della prescrizione. C'è poi un qualcosa che vi racconterò nel prossimo video. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video che sarà tra una ventina di minuti qui su questo canale. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete e poi siamo anche in Facebook, sempre la pagina Teleitalia. Grazie a tutti e ci vediamo tra poco. Ricordatevi che nella community ci sono tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare. Arrivederci a tutti e grazie.